Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto categorie 8 point full. Reboost 86. 98 cm Ruffled Blated Skirt, Skirt Length 38, 5 cm Weist 68 cm 77 cm T7 Includes 1. Flame Holy Soul Gen 2. Magical Gilt Clothes H3. Decoration con la Red Blows 4. Ribbon T5. Ribbon Back 6. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.